Stavo riportando dei disegni di mio cugino in un vaporetto sovraffollato di vacanzieri, di turisti. In questo vaporetto incontro dei miei coetanei che mi dicono, ah Giorgio tu che disegni, mostra questi disegni. Tirai fuori questi disegni che non erano miei ma erano di mio cugino, stavo per riportarli lì indietro e quando questi disegni cominciarono a fare il giro del vaporetto. Ad un certo punto arrivò una signorina, una bella donna, mi chiese, mi scusi, ma li ha fatti lei questi disegni? Io menti e dice sì li ho fatti io, perché sa io sono la fidanzata ha disegnato le scarpe. Quando faccio dei viaggi per esempio mi piace sedermi di fronte alla reception e osservare la gente che passa, come cammina, quali doventi ha, come si comporta. E magicamente poi quando devo disegnare questi personaggi. Ecco, trovano vita queste informazioni che ho avuto. L'ispirazione mia è la memoria, la memoria visiva. L'ispirazione mia è la memoria, la memoria visiva. L'ispirazione mia è 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 la memoria visiva.